Buongiorno, per la puntata di oggi di Focus di Circa ci ha raggiunto il studio il dottor Giorgio Giurato, laureato in bioinformatica nel 2009 a Bologna, ma dottorando qui a Salerno in Fisiopatologia Generale e Neuroscienze e svolge la sua attività nell'ambito del Laboratorio di Medicina Molecolare e Genomica della Facoltà di Medicina. Dottor Giurato, di recente sulla rivista Oncogin un articolo relativo all'attività di ricerca. Ce ne può parlare? Sì, abbiamo pubblicato appunto questo studio che ha dimostrato come il grado di malignità del tumore può essere dimostrato dalla diversa attività di piccoli geni che codifino per microRNA e dove appunto la diversa attività permette di discriminare tra tumori maligni e tumori meno maligni. Quindi ci spiegava prima cose che a livello macroscopico non possono essere evinti, al contrario a livello molecolare possono tranquillamente essere classificate. Sì, quando si prende appunto un tumore visto al microscopio è difficile capire un po' la componente genetica dello stesso e quindi si interviene attraverso strumenti bioinformatici. Appunto, bioinformatici, ma qual è il ruolo di un laureato in bioinformatica in questi gruppi di ricerca? Sì, il ruolo del laureato in bioinformatica è quello di utilizzare e studiare la biologia attraverso strumenti informatici, ovvero proprio di analizzare e archiviare quindi un'ingente quantità di informazioni che derivano dalla composizione genetica e dalle caratteristiche biochimiche dell'individuo. Quindi nello specifico del progetto di ricerca che è dato poi luogo all'articolo, lei di cosa si è interessato? Mi sono appunto intero occupato di capire, di classificare quindi i dati derivanti da questi tumori, cioè capire interati i meccanismi che sono la base di questi tumori maligni attraverso l'uso di strumenti informatici e di biologia computazionale. Quindi la dotazione informatica del laboratorio, mi diceva. Ho capito. E ci sono altri progetti in corso? Siamo giusto in chiusura? Sì, sì, stiamo appunto valutando, stiamo studiando delle modifiche, quindi delle mutazioni che possono avvenire nei geni implicati nei tumori. Va bene, ci può lasciare la sua mail eventualmente per contattarla? Sì, ggiratochiocciolaunisa.it Allora, grazie al dottor Giurato, grazie ai nostri gentili radioascoltatori.